Gli altri capo, caposaldi, molto più alti dell'ora. I banchi li tocca farlo uscire perché ormai è all'astro di uscire, non è assi soldi di liquidità, se no altri tutti quanti, tutta la fuoco, non c'è ma quella che è dentro qua, va al banco a ritirare i soldi, i suoi soldi, non quella della banda, i suoi soldi, anche se è solo 1000 euro, però un milione e mezzo di persone va a ritirare tutti i suoi soldi e bam, che va in defunto completo, cade e va par terra.